Mercoledì 27 aprile, ben trovati a tutti con l'Almanacco Roscopo. Oggi è Santa Zita, patrona delle casalinghe e anche delle zittelle. Per l'Almanacco, oggi, il 27 aprile del 2014, Papa Francesco, con una solenne cerimonia in Piazza San Pietro, dichiarava Santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Entriamo nel mondo dei compleanni, vediamo che è quello di Cecchigori, Vittorio Cecchigori, nato nel 1942. Il politico Graziano del Rio, 1960. Il giornalista Riccardo Iacona, della RAI3, nel 1957. Pronti a seguire, come sempre, segno per segno, l'Oroscopo in questo mercoledì. Ariete. Chiarire un malinteso vi servirà a ricreare l'armonia nei rapporti di coppia, lasciandovi alle spalle discussioni e ripensamenti. Venere vi dà via libera per iniziative che vi aprono mente e cuore a nuovi interessi. Assecondate le ambizioni e puntate in alto. Toro. Marte vi ispira a iniziative che offrono sbocchi nuovi alle vostre attività. Ottima la forma intellettuale. Appagate gli interessi che vi aiutano a guardare lontano. E dite sì ad un desiderio, perché avete assolutamente bisogno di gratificarvi. Fidatevi del vostro istinto. Gemelli. Positiva intraprendenza nel lavoro si aprono infatti nuove vie di sperimentazione. Siate benevoli nei vostri giudizi. L'eccessivo rigore non vi è congeniale e vi renderebbe impopolari. Vita sentimentale intensa, con conquiste e belle fioriture d'amori. Fatevi vivi con un amico lontano. Cancro. Guardate le cose in chiave realistica. Riuscirete a trovare la soluzione giusta al momento più opportuno. Situazione contraddittoria in famiglia. Si alternano serenità e tensione, ma il tempo volge al bello. Leone. Situazione armonica in campo sentimentale. Incontri da vivere con spensieratezza e fiducia nella vostra capacità di comunicare. Il lavoro richiede ordine nelle idee. Non è il momento di tergiversare. Successo nelle situazioni sociali e nelle pubbliche relazioni. Vergine. Grossa spinta al cambiamento. Date spazio alle vostre energie creative. Una conquista in attesa vi gratifica. Nei rapporti di coppia cercate di essere disponibili senza riserve. Novità positive in ambito professionale. Bilancia. Un familiare potrebbe mettervi bastoni tra le ruote. Giocate in difesa, ma non rinunciate al vostro bisogno di libertà. Venere. Vi aiuta a fare le scelte giuste in amore e nei rapporti di comunicazione, quindi con gli altri. Molta perspicacia anche in campo lavorativo. Scorpione. Relazioni interpersonali da coltivare. Utili scambi da vivere per allargare il vostro raggio d'azione. Qualche perplessità sul comportamento di un collaboratore. Lasciate che il tempo vi chiarisca le idee. In amore non fate troppi castelli in aria. Sagittario. Mettendo in luce il lato generoso del vostro carattere, migliorerete i rapporti con chi vi circonda. Belle novità per chi cerca l'incontro giusto. Molti impegni pratici da portare a termine. Organizzatevi, ma senza strafare. Capricorno. Sarete chiamati a svolgere compiti impegnativi, ma anche molto gratificanti. Gli astri vi aiutano a dare il meglio di voi stessi e a puntare in alto. Avrete ottime chance di successo. Situazioni nuove da affrontare in tutti i campi. Acquario. L'ambiente vi offre incentivi per ritrovare fiducia e per lasciare alle spalle dubbi e atteggiamenti rinunciatari. Desiderio di evasione e intensità emotiva. Nel lavoro non complicate i problemi per la fretta di risolverli. Lasciate alle cose il tempo di maturare. Pesci. Si rinnovano contatti assidui con amici e conoscenti. Ottimi i risultati di un lavoro d'equipe. Successo personale durante una riunione. In amore, un incontro inatteso riaccende l'interesse. Cercate di conciliare meglio il lavoro e la famiglia.